Progetto Acqua Metro Zero. Non produrre per non dover riciclare. Inquinamento da plastica nei mari. Ciao, come stai? Mi chiamo Davide Priore e sono uno dei due soci fondatori della società miniera. Se stai guardando questo video messaggio è perché sei pronto a recepire ciò che sto per dire. Questo è il quinto video del 2019. Hanno dedicato al progetto Acqua Metro Zero. Da quasi 30 anni lavoro nel campo dell'acqua. Il mio lavoro mi ha permesso di lavorare in molti paesi in giro per il mondo, dandomi la possibilità di vivere a contatto con realtà simili o molto diverse. Dal 1999 mi occupo quasi esclusivamente di impianti di purificazione d'acqua per uso alimentare. Da dicembre 2016 ho iniziato a fare una massiccia informazione su internet, postando un video al giorno, dove parlo di acqua. Io ho così iniziato una battaglia personale e virtuale contro le bottiglie di plastica, a causa del loro pesante impanto ambientale. Ed è per questo motivo che per tutto 2019 la mia attenzione sarà impegnata nel progetto Acqua Metro Zero. Da uno studio si evince che se fosse possibile filtrare tutte le acque salate del mondo, scopriremo che ogni chilometro quadrato di esse contiene circa 46.000 microparticelle di plastica in sospensione. È una quantità incredibile e non è circoscritto solo alle 5 isole di plastica che continuano a crescere negli oceani, ma tocca anche il mar Mediterraneo. L'UNESCO sottolinea come il fragile equilibrio della vita marina, animale e vegetale sia scosso da una sempre più elevata concentrazione di plastica di ogni tipo e questo sta causando danni forse irreparabili nella catena alimentare. Nel 1950 erano 2 milioni le tonnellate di resine e fibre plastiche prodotte nel mondo e nel 2015 siamo arrivati a 380 milioni di tonnellate. In questi 65 anni la plastica è diventata un simbolo di progresso al pari del cemento e dell'acciaio e in questo tempo si sono prodotte oltre 6.300 milioni di tonnellate. La plastica fa parte della nostra epoca ed è difficile trovare oggetti che non contengono polimeri plastici. La plastica però è il prodotto sintetico a più lunga conservazione, si degrada completamente solo in centinaia di anni, quindi se non viene bruciata o riciclata correttamente finisce nell'ambiente alterando gli ecosistemi. In tutti questi anni, dove la domanda di materie plastiche è cresciuta senza limitazioni, solo il 20% di tutta la plastica prodotta è stata riciclata o incenerita. Il restante 80% lo si è accumulato come scarto a terra e in acqua. Questo significa che ogni anno finiscono nei mari di tutto il mondo dai 4 alle 12 milioni di tonnellate di plastica, che altro non possono causare che inquinamento marino. Quindi sappiamo che causiamo, con tutta questa plastica, i 4 quinti dei rifiuti che finiscono in mare, che vengono sospinti dal vento o trascinate dagli scarichi urbani e dai fiumi. Il restante quinto dell'inquinamento marino è prodotto direttamente in mare, dalle navi che li solcano, come i pescherecci, le navi mercantili e le imbarcazioni turistiche. Non esiste luogo nei mari e negli oceani dove non si siano trovati residui di plastica, bottiglie, imballaggi, reti da pesca, sacchetti e qualunque oggetto in plastica, una volta finito in acqua si spezza in frammenti più piccoli, che possono aggiungere dimensioni microscopiche inferiori ai 5 mm di diametro, diventando così una fra le principali cause di morte per soffocamento di molti pesci ed uccelli marini, poiché vengono scambiati per cibo. Grazie a queste microparticelle 115 specie marine sono a rischio. La plastica viene scambiata per plankton o per meduse ed è un evento così comune che il 52% delle tartarughe marine ne ha subito gli effetti. In Italia il 72% dell'acqua è venduta in bottiglie di plastica per un totale di 4.720 miliardi di bottiglie di plastica da un litro e mezzo, che sono 132.160 tonnellate di PET, che si possono tradurre in 472.000 tonnellate di CO2 emesse nell'ambiente solo per produrle, a cui vanno aggiunte 925.000 tonnellate di CO2 emesse per trasportarle, per un totale di 1.397.000 tonnellate di CO2, immesse nell'ambiente solo per un liquido che nella maggior parte dei casi ha caratteristiche peggiori dell'acqua che esce dal ruminetto di casa. Se non è stupidità questa, allora cos'è? Autolesionismo? O poco rispetto per se stessi, per il mondo in cui viviamo e per i posteri? Come già detto nei video precedenti, per me esiste un solo modo per non dover smaltire la plastica, e cioè non produrla. Forse non possiamo fare a meno di tutta la plastica, ma possiamo fare a meno delle bottiglie di plastica. E visti i numeri appena elencati, il risparmio in danno ambientale sarebbe immenso. Stai pensando che sia un'utopia? Forse. Però viviamo in un mondo dove tutto si compra e tutto si vende. E questo mercato si basa sulla domanda. Ovvero, se c'è la richiesta di un determinato prodotto, questo verrà prodotto. Ma se la domanda cala o scompare, anche il prodotto calerà di produzione o smetterà di essere prodotto. Quindi il mio pensiero è facile da applicare. Smetti di comprare le bottiglie di plastica piene d'acqua e bevi l'acqua del rubinetto. Il risparmio annuo in soldoni per una famiglia di 4 persone in Italia va dai 320 ai 720 euro a seconda della marca acquistata. Se tutti ci impegnassimo in questa semplice azione, potremmo eliminare nell'unico modo ecologico la plastica, ovvero evitando di produrla. Non a caso, il payoff del progetto miniera è non produrre per non dovre riciclare. Ma quando vai al mare o in montagna e vedi tutti quei rifiuti dispersi nell'ambiente, pensi veramente di non essere anche tu, come tutta l'umanità intera, responsabile di questo schifo? Pensa, l'80% delle bottiglie di plastica che compri finisce in mare. Pensi ancora di non essere responsabile? Non crederei mica che solo quando la plastica raggiunge il mare si trasformi in microparticelle per diventare cibo per la fauna e subito dopo cibo per gli esseri umani. No, l'ignoranza raggiunge quote inimmaginabili perché le industrie le producono direttamente e le infilano in prodotti di uso comune. Ecco un esempio. 750.000 particelle di microplastica in un flacone da 250 ml di crema esfoliante. 100.000 particelle di microplastica disperse nell'ambiente per ogni doccia fatta usando il doccia schiuma. 320 tonnellate di microplastica rilasciate in mare ogni anno solo in Italia per l'uso dei detergenti per viso. E ben 74 tonnellate di microplastiche finiscono negli scarichi di tutta Europa a causa dei dentifrici. Forse non puoi fare a meno di questi prodotti ma sicuramente puoi almeno evitare di comprare le bottiglie di plastica nelle confezioni di plastica ma anche quelle imbottigliate nelle confezioni di vetro. Il progetto Acqua Metro Zero nasce con l'intento di eliminare le bottiglie dalla tavola di tutti coloro che vorranno aderire. Non è obbligatorio comprare nulla. Si può semplicemente smettere di comprare l'inutile acqua in bottiglia di plastica e iniziare a bere l'acqua della propria municipalità. Se non ti piace il gusto o non ti senti sicuro nel berla Acqua Metro Zero mette a disposizione due impianti ad osmosi inversa in grado di erogare acqua a temperatura ambiente sia microfiltrata sia osmotica sia alcalina e a richiesta eroga acqua per uso tecnico tipo l'acqua per il ferro da stiro. Se vuoi l'acqua fredda basta mettere una bottiglia della sua preziosa acqua in frigo e se vuoi potrai gasarla col gasatore manuale di cui è corredato. Inoltre grazie agli sciroppi che per trovare in commercio potrai prepararti delle bevande colorate e zuccherate eliminando così anche l'acquisto di quella plastica lì. Per i prezzi ti rimando al secondo video intitolato Progetto Acqua Metro Zero oppure mandami un messaggio Whatsapp al 348 780 0055 o una mail a davidepriore.eu ovviamente puoi anche chiamarmi ti invierò un pdf informativo e la scheda dei prodotti. Ora spettate a scegliere da che parte stare. Se pensi che ora non puoi acquistare il Nero Box Ghost e nemmeno il Nero Box Eco Blue ti chiedo una cortesia non lasciarmi bloccato nel tuo computer o nel tuo telefono inviami a tutti i tuoi contatti magari qualche tuo conoscente ha già pensato alla soluzione che questo progetto rappresenta e magari gli fai un bel regalo perché un'offerta così non esisteva fino a prima di questo progetto. Mi raccomando non pregiudicare manda questo video messaggio a tutti i tuoi contatti nessuno può sapere chi ha scelto di aiutare questo pianeta a smaltire meno plastica ed è anche per questo motivo che questo progetto si muove solo grazie a video messaggi ed alcuni dei plan informativi non cartacei per girare leggeri senza carta per inquinare il meno possibile con un obiettivo preciso eliminare dove è possibile l'uso delle botteglie di plastica. Se invece anche tu decidi di avermi con te fai comunque girare questo file se sono stato utile per te posso esserlo anche per i tuoi amici grazie qualunque sia la scelta che tu compierai è perché mi condividerai se mi hai guardato fino a qui mi compiaccio di te l'argomento è un po' difficile da condensare in alcuni video ma Davide uccise il gigante Golia solo con una fionda e una pietra ed io vorrei eliminare le bottiglie di plastica con alcuni déplian e dei brevi video messaggi informativi dai dammi una mano anche tu vivi anche tu su questa terra oppure no tutti uniti facciamo l'umanità intera sono le piccole cose i gesti semplici che rendono questo posto un mondo migliore non importa se compreranno questo prodotto o un altro impianto da qualsivoglia altra azienda oppure che iniziano a bere l'acqua del rubinetto ciò che importa è che si installi l'idea che si può fare sono felice se anche tu avrai voglia di aiutarci ad invertire la rotta niente richiesta di plastica si traduce con niente produzione di plastica di conseguenza niente smaltimento e nessun riciclo e questo per me è la vera ecologia ovvero non produrre per non dover riciclare per ulteriori informazioni e per acquistare il nero box ghost o il nero box ecoblu mi puoi contattare ai recapiti che vedi sullo schermo ciao passa parola e al prossimo video messaggio ciao 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 ciao